Sarà un ferragosto con disagi legati all'emergenza idrica per i turisti e cittadini di Vasto Marina e San Salvo Marina. Infatti a seguito della rottura di una condotta in territorio di Cupello provocata in maniera involontaria da un agricoltore, le due cittadine costiere sono rimaste a secco. Una situazione che ha fatto correre ripari la Sasi che ha inviato a partire da ieri autobotti nelle due cittadine. Questa mattina un flusso continuo di persone si è approvvigionato in piazza Fiume. Tra loro anche un turista che viene in città dal 1977 e che ha ribadito come questo problema sia annoso. È un problema ricorrente perché noi siamo sempre qui in vacanza e nel tempo è successo diverse volte. Gli incidenti capitano però come succede per la linea ferroviaria laddove tu hai un binario unico poi i disagi si sono protratti nel tempo quindi sarebbe il caso di pensare ad un'infrastruttura che non abbia una sola conduttura ma ce ne sia un'altra di emergenza per queste evenienze. Il disagio c'è a maggior ragione c'è per gli operatori economici di Vasto Marina. Pensate che ieri a Lido, ieri pomeriggio non si potevano più fare le docce quindi vengono colpiti anche i Lidi e i ristoranti delle attività di Vasto e San Salvo Marina. Proprio quando c'è da lavorare di più quindi si richiede che almeno questi soldi del Recovery Fund vengano spesi per gli effettivi bisogni e necessità di cittadini e imprese. Le autobotti resteranno in funzione fino alla termine dell'emergenza che si spera non vada oltre il 16 agosto. Dovremmo essere fino al 16 di agosto permettendo che torni l'acqua insomma ecco che i lavori che sono stati fatti vadano a buon fine. Non è colpa né del comune né della Sasi purtroppo è un inconveniente che è successo il caos che ha creato per i bagnanti, i turisti. È una cartolina un po' negativa la cosa però non è colpa di chi è che ha creato il danno insomma ecco.